Per voi giocatori come è stata? Perché c'era un riscaldamento, c'era un arrivo allo stadio, non è solo i 90 minuti. No, no, tutto il contorno, come dicevo Ale, già dal giorno prima, non arrivo al campo, e ti dico anche personalmente proprio nel riscaldamento, quando siamo usciti, già a vedere così tanti tifosi che ti sostengono, è stato emozionante, è stato veramente bello, comunque è una cosa più buona da sicuramente andare, come diceva prima, anche se a buttare il cuore oltre lo stacolo, sicuramente. E tu, Renatole, parla anche di compattezza, di ambiente che si è ritrovato, i risultati negativi e anche le problemi che non erano... Anche questo è importante per voi, lo sentite a pelle? L'avete sentito sabato sera? No, no, sicuramente. Un mese fa sicuramente è mancata un po' di fiducia da parte, forse invece di noi, ma perché con i risultati poi veramente torna a essere tutto nella norma. Per noi è importante avere i vicini e sentiti vicini, e quindi speriamo che nel processo del campionato, cioè di play-off, siano così come questa partita che abbiamo fatto e non andiamo più. L'appello di Racopoli.